di Stella Jeanne, non la possiamo più chiamare una giovane stilista, dopo lei ci dirà brevemente come cosa ha fatto per arrivare, ci sono state due bocciature prima di arrivare a essere Stella Jeanne Grazie 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 Una volta dallo stile inconfondibile quel mix che coniuga la santo realità italiana con la parte più etnica di Haiti, quella stessa metà che scorre nel sangue di Stella Jeanne. Il premio lo consegnerà a quattro mani direi, a Stella Jeanne, ma ci deve essere anche la mano di Monica perché qua la costruzione è tutta femminile, quindi unitevi intorno a Stella per la prima volta sul palco di Taurano. Una mano tutte assieme, straordinario, un quadro complesso ma ci siamo riusciti.